Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Stenico e sono candidato alle elezioni per l'integrazione tra il prossimo 25 maggio. Lo stesso giorno verrà eletto il nuovo sindaco di Düsseldorf. La mia candidata è Miriam Koch, per una città alla portata di tutti, per il diritto alla casa, per una migliore qualità della vita, il prossimo 25 maggio. Miriam Koch. Grazie.